Ciao a tutti i cocchi, sono sempre io, Cocomaster Allora, innanzitutto, prima di far partire la clip di questo video Oggi è lunedì 9 maggio E tengo a precisare che questo video è stato registrato martedì 3 maggio Quindi sono passati ben 6 giorni Comunque ragazzi, non è quel giorno Madonna, io e Magic ci siamo presi uno spavento Perché praticamente erano in questo garage Diciamo un garage normalissimo, il garage di Magic Dove praticamente si mettono le biciclette, non per le macchine ovviamente E eravamo solo noi Cioè il garage è piccolo, c'eravamo solo noi Si è sentito rumori di catena sbattere con violenza Ma non c'era nessuno Cioè, era veramente agghiacciante Ma proprio con violenza Sembrava... Io ragazzi vi lascio alla clip Perché veramente Questo sarà un video epico Vi lascio alla clip No, non riprendo quella cosa Ma è oggi ragazzi Stiamo fare questo cazzeggio time È il più, è il Sono le Precisamente le 6.8 di Anzi no Le 6 Vabbè Sono circa le 6.10 Di pomeriggio Del primo maggio Intanto vi ricordo Questo rumore dello skate Vi ricordo di passare al mio canale perché In questi giorni ho caricato Tanti bei video Soprattutto la live ragazzi Non ditemi che vi siete persi la live Non ditemi Dovete vedere la live Dovete vedere la live Ma che cosa vostra No no E niente ragazzi Ci vediamo dopo Dunque ragazzi Ora stiamo salendo in questa parte del garage Non so che cazzo c'è Sono tutti i suoi mobili vecchi Sono tutti i suoi mobili vecchi Qui c'ho paura sinceramente Che cosa che è sicura Anzi Mi assicura ragazzi Ma se proprio torniamo a vedere Guarda Ma non ho nascosto la Playstation Non ho nascosto la Playstation E oggi qua sono qua Per risparla C'è un paio di costumi Niente ragazzi Una gelata Un paio di vovote Insomma una gelata Sì un martedì un po' Un po' aspro Un po' Pover di sole Ma comunque ragazzi C'è un paio di sole Cazzo c'è quanto No Pover di C'è dell'olio Olio d'oliva Schifo Ok Ragazzi comunque I bocci Sedie Misse su Tavolo E niente ragazzi Una scena d'api Ma adesso scendiamo E Ultima pausa Dunque ragazzi Stiamo cercando la sua play Attenzione Qui c'è un casco Qui c'è una luce Qui c'è un motosca... Scusate Qui c'è la macchina C'è un motosca Comunque ragazzi Scherzi a farti Oggi Stai con questo nuovo video Per Cazzeggio Dai Sì Dunque ragazzi Cazzeggio Adesso scendiamo Perché Ragazzi Siamo qui Nella seconda parte Del video Mi sarei interrotta La telecamera Perché avevo la memoria Quasi piena Ma Non demoralizziamoci Perché oggi siamo qui Siamo qui Nella seconda parte Del video Allora Qui c'è lo skate Inoltre ragazzi Facciamoci un po' di giro Guarda Qua è il quadrumore L'ho sentito anch'io Non sa cos'era Si sta a trasformare In un horror Questo video Ragazzi Attenzione Si è sentito un rumore Abbiamo sentito un rumore Di catena C'ho una paura Che mi sto cagando Se c'è qualcuno Li chiedo questo addosso Voglio Mi sto cagando addosso No no Vedi patente Io ho paura Siete davanti Dunque ragazzi Abbiamo sentito Una catena muoversi Ho una paura Attenzione Stiamo vedendo che cazzo c'è Si Ragazzi Guarda bisogna correre Bisogna scappare Perché C'è un rumore strano Anche fa un po' paura Sto garage No andiamo via Ciao Bella raga Mi scappiamo cazzo Cazzo raga No no Scappiamo 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 Ho una paura Ma no bisogna uscire Da qui Bisogna uscire Attenzione Sarà uno di video Per gli etici Cazzo raga Non bisogna scappare Mi sa perdono Passare Eccoci Oh che cazzo Cazzo c'è No raga Andiamo via a questo posto Si che fo Ragazzi Vediamo dopo Sono traumatizzato Aspettate Dunque ragazzi Siamo scappati Mi sono cagato in mano Davvero ragazzi E' Paoroso Tipo un fantasma Non lo so Chissà cosa c'era Ora siamo tornati Paura pura Dunque ragazzi Siamo tornati a casa E niente Non ho preso il coraggio Veramente ragazzi Mi sono preso una spavento Non ho il coraggio Di andare avanti In questo video Sia io che magic Quindi abbiamo deciso Di chiudere qua il video Niente ragazzi Siamo Veramente Spaventati Perché Un rumore di catena Vabbè Comunque c'è una Prima di questo video Bella Ciao